Ciao a tutti raga e benvenuti finalmente nel nuovissimo episodio di Ark Survival Evolved. Niente raga, oggi ci concentreremo sulla cattura del Caprosucius, sì ho detto giusto, spero, e vabbè comunque una specie di coccodrillo salterino, chiamiamolo così, e poi inizieremo ad addomesticare un Terror Bird, visto che era da un po' che lo volevo catturare. Nel frattempo io vi lascio il video, voi sapete cosa fare e ci vediamo fra un decimiliardesimo di secondo. Ciao ciao! Ok raga, eccoci finalmente in un nuovissimo episodio di Ark Survival Evolved. Allora, allora, nell'episodio di oggi avevo intenzione di andare a catturare un altro dinosauro carnivoro, e a proposito, sì, mi sono andato ad addomesticare un altro Raptor fuori registrazione, ovvero questo qui, eccolo qua, buongiorno, l'ho anche, mi deve anche livella, ah, tre livelli mi hai fatto, e vai così allora. Ah, ti devo procurare un po' di carne, eh? Tu invece come sei messo? Ah, vabbè, tutto a posto direi. Sì, ne ho, eh, vabbè, l'ho chiamato Echo, ve l'ho detto che mi voglio fare la Raptor Squad di, come ragazzi si chiama, di Jurassic World. L'unico problema è che adesso questi sono due maschietti dovrò trovare due femmine, perché se non sbaglio, se non dico boiate, quelli di Jurassic World erano due coppie, cioè due maschi e due femmine. Allora, comunque, tornando all'addomesticamento di oggi, mi volevo andare a prendere, ho già cartato la sella e il capro sucius, che sarebbe quella specie di coccodrillo che fa i salti mega apocalittici, quindi per mia grandissima gioia dobbiamo tornare nella palude, che l'ultima volta che ci siamo stati per cercare il Baryonyx ho dovuto porconare parecchio, perché non ne spawnava mezzo. Vediamo se anche questa volta Arca fa lo stronzo. Ah, per inciso, la volta scorsa che ho registrato l'episodio appunto dove andavamo a catturare il Baryonyx, se vi ricordate i Baryonyx prima che ne spawnassi uno di livello decente, che appunto è quello che siamo andati ad addomesticare poi, se vi ricordate, in quella cavolo di palude era spawnato di tutto, tra cui anche un sacco di coccodrilli di capro sucius. E cosa avevo detto quella volta? Quando verrà il giorno in cui dovremo addomesticare il capro sucius non ce ne sarà mezzo, vedremo se è davvero così, sarà sicuramente così conoscendo Arca, però mi ricordo che l'avevo detto, eh. Vediamo adesso, lo voglio vedere. Ok, eccoci finalmente a questa crispe di palude, aspettate un secondo che faccio recuperare, no dove vai ciccio? Qua. Faccio recuperare un attimino la stamina, l'aquila, oh ci sono un po' di porcelli, la tua carne, come mi sei messa. E direi molto bene, anzi dammi questa roba qua. Ah, va bien. Ok, c'è già il dilofosauro qua, di turno che devo spaccare i maroni. Ok, stiamo attenti perché gli stronzoni di coccodrilli saltano fuori dall'acqua e si mi beccano, i mini sorcionano dall'aquila e son cacchi amari. Vedrai che non ce n'è neanche uno adesso che devo catturarlo. L'altra volta era pieno, adesso non ce ne sarà mezzo, non ci sarà neanche solo una, una squama di questi qua. Vediamo un po', qui arriva se ne troviamo qualcuno. Bennecce, ok. Ah no, quello è il coccodrillone gigante, vabbè che dovrò domesticare anche quello. E quando dovrò domesticarlo non ce ne sarà neanche mezzo. Cosa si sta mangiando? Ah, il titano boa. Peccato che i titano boa non sono, ahia, non sono tamabili, eh vabbè però. Ah, è vero che gli stronzoni si arrampicano sulle rocce. Ma porca sozza. Mi hanno pizzicato l'aquila, spero che non mi si addormenti. Ma no, non credo perché ci vuole più di un morso. Ecco, giustamente caga. Ecco, guarda, là c'è un altro coccodrillone gigante. Eh, sì sì, poi quando dovrò venire a prendere uno di questi non ci saranno, non ce ne saranno, no. Altro coccodrillone gigante, no? E cercavo i vostri colleghi, quelli un po' più piccoli. Ne avete mica visti? Eh dai, porco cane, arca, che l'altra volta era pieno. Oh, cosa avevo detto io? Porca miseria, ogni volta. Ah, era pieno di coccodrilli qua l'altra volta, era pieno, era pieno. Perché non ce ne manco più uno adesso. Cacchio, nella palude dovrebbero spawnare così, proprio come non ci fossero domani. Eh no, niente, non si ne trova. No, niente, niente da fare raga, sto girando già da qualche minuto e niente, eh. Ho trovato solo coccodrilloni, coccodrilli, niente. Eh sì, sì sì, è pieno, ci sono un sacco di sarcosauri, come si chiamano, sarcomimus, vabbè, i sarco, chiamiamoli così. Cioè i coccodrilli quelli abnormi, ma quelli piccoli che sto cercando io, quello è uno di loro. Oh, zitti che ne abbiamo trovato uno, forse. Guarda, non me ne frega di che livello sei, fatti vedere, fatti vedere un attimo, vediamo se riesco a pigliarlo prima che lui mi disarciosi. Ok, ho dovuto ricominciare la sessione perché sono dovuto uscire un attimo dal gioco, raga, andare nel menu delle opzioni perché per qualche oscura ragione, ARC, nel menu appunto delle impostazioni mi aveva disabilitato la possibilità di grabbare gli animali. Eh, taci tua. Ok, facciamo un po' di piazza pulita perché il coccodrillino che avevo addocchiato da queste parti, sempre ammesso che ci sia ancora, era circondato da altre bestie schifose. E poi, quello stromaledetto cagnaccio che mi attaccano tutti. Oh, ARC, sei veramente bastardo, eh? Mi ha fatto spawnare il disastro di animali. Oh, cos'è? Cos'è? Ma è morto quello. Ah no, no, è incosciente, è incosciente. Si vede che l'hanno morso i cosi. Come si chiamano? Il titano boa? E me l'hanno steso? Probabile? Boh, non lo so. Meglio, livello 44, tra l'altro non mi attaccare pure a te che arriva lo sciame dei tuoi simili, se no. No, 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 dilofosauro di nerd. Vieni qua, su di sbrano vivo. Ok, è il dilofosaurino sistemato. Chi altro è che rompe i marroni? C'era qualcun altro che mi pizzicava le chiappe. chi era? Nessuno? Ok, bene. Oh, porco cane. Cos'era quello? Ah, un galimimus, ok, mi sembrava un raptor. Porco cane. Ok, ecco, giustamente tu devi venire qua a far casino adesso. E certo, farmi ballare tutta la telecamizzeca. Mi vomiterò tantissimo. Vaffancuore, guarda, mi hanno spaccato pure due pezzi d'armatura. Guarda che danni mi hanno fatto. Pezzi di melma, maledetti rompimarroni. Madonna, il prossimo che ho provato ad attaccarmi, vedi quanti ceffoni dietro alle orecchie. Ah, inizia a mangiarti sta roba, te. Vieni di addomesticarti. Porco cane di culo che me l'hanno addormentato i titanoboa. Ho risparmiato pure proiettili. Ah, guarda quello, guarda questo, guardalo. Guarda, troppi coglioni di guerra. Ah, e anche questo è andato. Ale, te, ciapa chi? Ale. E ho trovato anche un coso morto lì, un sarco di quegli giganti lì, il coccodrillone. Ecco qua, ce n'era un altro appunto, a quanto pare. Sì, c'è stata una carnificina qua, veramente. Mi hanno attaccato 50.000 serpenti, coccodrilloni, coccodrillini, mosche, di tutto. Porco cane, il problema è che io prima in mezzo al masticatoio che si è scatenato qua ho visto anche un carno. Non so di che livello fosse. Ecco fatto. Ciccio, ma difenditi, porco cane, sei grande e grosso. Ah, ti avevo messo su passivo, perdonami, colpa mia, è vero. Dicevo, prima in mezzo al casino che c'era qua, quando mi hanno attaccato che sono rientrato nella sessione, grazie ancora a Ark che mi avevi disattivato la possibilità di grabbare, non si sa perché mai gli è girato così. Quando sono rientrato sono sicuro che avevo visto, non ho visto bene se era un carno o un baryonyx, però c'era un presunto carno barra baryonyx che era qui in mezzo al casino. Dicevo che non ho visto di che livello è, spero che se torna non sia di livello millemila perché, porco cane, mi ci vorrà un casino da domesticare il signorino lì perché non ho primit e niente. La bravo pirla non ci ho pensato a portarmi dietro un po' di carne di montone ma non l'ho portata perché non sapendo quanto ci avremmo messo a trovarlo appunto avevo paura che Marcisse andasse sprecata. Ok, per chi se lo stesse domandando, sì, è l'alba del giorno dopo e lo stronzone non si è ancora domesticato. Che brutto non avere la primit. Sì, si è domesticato parecchio ma ce ne ha ancora, ce ne ha ancora. Porco cane, porco cane. Arrivasse un crisvio di titanoboa o qualcosa. Allora, provo a fare un giretto con l'aquila, vediamo se troviamo qualcosa. Uh, anche questo ci dobbiamo prendere. Ah, salve signor sarco. Allora, aspetti che questo è di livello schifo, possiamo ucciderlo. Sì, poi anche questo voglio domesticare. Quasi, quasi lo addomestico. Se ne trovo uno di livello alto magari lo addomestichiamo già in questo episodio. Ah, ci parte il doppio addomesticamento. Vediamo, eh, vediamo perché è già per... Preso, trovato. Ok. Titanoboa, perfetto. Dammi un po' di primit. No, non mi pizzicare le chiappe tu. Guarda che mi voleva acciuglare la preda. Alevetto, coccodrillo. Della domenica. Ok. Oh, primit, perfetto. E mo, so cacchi. Ale, altra primit. Adesso dovremmo concludere l'adomesticamento in un battibaleno. Ok, dammi la primit. No, ti ho sentito, rompi i coglioni. No, no. E mi ha fatto fare il resto dell'armatura. Ecco. Ecco. Buonanotte, Umilio. Ma porca, eh. Fanni, fallo fuori il titanoboli. Spero che nel frattempo nessuno mi venga a stuprare. Ah, niente. Arca mi odia. Arca mi odia. Umilio. Ti puoi alzare, per favore? Dai, che marcisce la primit. Sto qua non si addomestica più, se no. Mi zecca che due maroni quando... Quando capita così veramente un colpo di sfiga uno dietro all'altro mi viene voglia di interrompere la registrazione e disinstallare il gioco. Orco, caspio. Mi zecca raga. Oh, alleluia, eh. Mamma mia. Guarda qua la primit. Guarda che sta andando tutta... Ci siamo capiti dove. Eh, ma no, ma marcisce. Non fa in tempo a mangiarsela tutta. A che livello sei te, scusa, eh. Che tu la primit la dai. Livello 16. Metti pronta fucilate. Tanto ci muore con le fucilate. Oh, non ci avevo pensato prima. Così almeno lo smetti anche di tartassarmi i marroni che mi sballi tutta la telecamera. Io adesso provo a prendere la carne, Ark. Il primo che si avvicina a rompermi le palle e lo faccio fuori. Ecco, infatti sono arrivate le mosche. Dammi qua un po' di primit, va. Oh, mannaggia la pupaziella. Vale. Eccotela qua, la prime mea. Oh, porra cazzozza. Guardate, tutta l'armatura è andata a farsi benedire. Oh, finalmente. Finalmente. eh, come si chiamava? No, vabbè, va. Anzi, sapete cosa? Lo scegliete voi il nome per il coccodrillo. Sceglietelo voi. Che se poi lo do io, magari mi sento ancora dire che copio gli altri youtuber. Quindi, lascio a voi la scelta. Lascio a voi la responsabilità. Ok. E il coccodrillone ce lo siamo preso. Aspetta un secondo. Ecco, ok, che era impostato su, seguimi. Ok, andiamo a casa. Mi aggiusto questa crisbo di armatura, porco cane. Guarda te, questo era solo il primo addomesticamento, eh. Poi vediamo, raga, se riesco a portarmi a casa un Terrorbird e magari iniziamo ad addomesticarlo. No, eh, Fanni, evita di cagare mentre tieni il coccodrillo che, poverino, gliela fai addosso. Cioè, non è piacevole, eh. Dimmi te che mi hanno fatto fuori tutta l'armatura in pelliccia. Sì, anche io da Bravo Pirla mi dovevo organizzare un pochino meglio, scusate, ma prima di iniziare l'episodio l'unica cosa che ho avuto tempo di fare è stato appunto raccogliere quei pochi materiali che mi mancavano per craftarmi la sella del coccodrillo. Perché solito prima di registrare un episodio io parto un pochino prima e mi preparo mentalmente, diciamo che mi preparo tutto l'equipaggiamento, tutto quello che serve. Oggi ho fatto un episodio, cioè, ho iniziato a registrare in maniera un po' improvvisata e infatti i risultati si sono visti. Orgocane. Mi dovevo mettere l'armatura in metallo innanzitutto, perché tanto lì nella pallude fa caldo, quindi quella in pelliccia. Cioè, potevo anche evitare di portarmela. Sì, infatti avevo intenzione di grabbarne uno, portarlo a casa, sbatterlo nella gabbia e domesticarlo direttamente lì, però c'era questo qua che era già steso, probabilmente, ripeto, per il veleno dei Titanoboa, perché in mezzo a quel casino è successo di tutto, c'era di tutto, tra cui Titanoboa, appunto, avranno steso loro con il veleno e allora io ho detto, ma sì, perché non approfittarne, scusate. Allora, vediamo se qua possiamo riposare 10 secondi che, eh no, c'è là, c'è il Titanoboa, un piccolino di turno, accompagnato dal coso qua. Allora, i cosi qua li facciamo subito fuori. Vabbè, adesso voi mi acceccate, ma non importa, tanto l'ammazzo comunque. Ok, ecco, è arrivato il terzo. Il quarto. E il quinto. Guarda, qua me li sta facendo spawnare qua davanti proprio. Non ti smentisci mai, eh, Ark, non ti smentisci mai. Ok, poi le mosche, fantastico. Sì, lo so che non sono mosche, sono libellule, ma io le chiamo mosche perché sono fastidiose. E muoreci che sei a un livello schifo. Vabbè, raga, facciamo che taglio direttamente quando siamo arrivati a casa, così almeno poi là se c'è qualche animale da trucidare ci testiamo il Caprosocius come si deve. E poi vediamo di iniziare ad domesticare un coso, lì, il Terrorbird. Ok, eccoci finalmente a casa. Oh mio Dio, non ce la faccio più. Allora, Ficcio, ti parcheggio un secondo qua, metto l'aquila qui e vado a riparare questa cacchio di armatura, porca cazzozza. Maledette creature della palude. Ok, armatura in pelliccia riparata, vediamo un po'. Dove è finito? Ah, il pantaloni mi inizia che non l'avevo visto mai nella vita, ma è possibile. Cosa mi manca? Ah, la pelle. C'è la pelliccia animale. Vabbè, non importa, poi ne vado a prendere un po' dalle pecore con le forbici. Adesso, tanto questa per ora la poso e passo a quella in metallo. Ok, dopo due milioni e mezzo di anni, fammi passare ciccio. Dopo due milioni e mezzo di anni l'ho trovata. Eccola qua. Ok, ah, mi ho già liberato, bravo. E ammazza, tu di peso non porti niente. Ehm, vabbè, e aumentami un po' il peso allora ciccio, eh, scusa, a sto punto. Ok, dammi qua, dammi qua, questi qua, niente, boh, ok. Ok, sì, adesso è lento a merda, in effetti. Allora, facciamo così, madonna, oggi cos'è? Ah, ciccio fammi il favore, mi reggi un attimo l'armatura, così sono più leggero. Ah, tieni un attimino anche sta pelle, sta chitino. Ah, mamma mia, va bene così. Ancora troppo pesante. Ma non porta un cazzo di peso sto animale. Minchia. Ah, allora che cosa ti lascio? Ti lascio un attimino i fucili. Ecco qua. Boh, cioè io non peso praticamente più niente adesso, eh, non ti lamentare. Oh, ok, bene. Minchia, non porta niente di peso sto animale. Zero proprio. Ok, oh, c'è uno tigre. Testiamolo subito sulla tigre. Ah, ok, così sa. E vabbè. Ok, vabbè. Così mordicchia e così. Lo pigli? Ah, no, non lo piglia ma fa l'attacco in salto. Ah, così. Ecco, giustamente adesso devi cagare te, eh. Ammazza. Ah, ma non lo tiene tra le fauci però. Cioè, quando mi ha attaccato a me mi teneva fra le fauci. Ok, vabbè, forse la tigre perché è troppo grossa. Vabbè, dai. Non male, non male, il suo lavoro lo fa. Ok, e ti aumento un po' la vita perché vedo che comunque anche quella è bassina. Sì, non è un gran chesto animale effettivamente in quanto a statistiche, eh. Che butta sta roba che tanto non me ne faccio niente. Ok, ti parcheggio. Anzi, ti parcheggio qua vicino al laghetto proprio. Ecco qua. Voi così. Oh, perfetto. Ah, a proposito, testiamolo in acqua. Non l'ho testato in acqua, che pirla. Vabbè, in acqua è molto più veloce. Ti fa fuori i pesci come se non ci fossero domani. Buono, buono. Ah, bene, bene. Così almeno quando spawnano i piragni a sto laghetto adesso sono in grado di affrontarli come si deve. Ok, vediamo un po'. Allora, i Terrorbird li ho visti in giunilaio. Vicino alla foresta di Redwood. Davanti alla palude, appunto. Quindi dobbiamo tornare là, che due palle. No, veramente sto episodio lo dovrò intitolare tipo, non lo so, la palude dei massacri, perché è successo un casino lì, veramente. Mamma mia, ho rischiato di morirci male 50.000 volte. Orca zozza. Allora, allora, allora. Aspetta, però, perché i Terrorbird spawnano proprio nella foresta di Redwood. Io è qua che li incontro sempre, anche fuori registrazione. Se magari ci facciamo una sbulazzatina qua. Ne troviamo qualcuno, almeno spero. Prima c'erano, eh, li abbiamo visti, eh, raga. Adesso non ci sono più. Chissà come mai. Vediamo un po'. Sono questi su un Terrorbird? Sì, su un Terrorbird. Ok, li abbiamo trovati. Buono, buono. Allora, vediamo se ce n'è uno di livello decente. Sì, si stanno tipo facendo il bagno nelle Terme lì. Allora, vediamo. A parte che abbiamo già puntato. Tu sei livello 12, fai schifo, quindi. L'altro che era qua, livello 12, sempre fai schifo. Che faccia da pirla c'hai. Ok, qua ce n'è una. Ce ne sono altri. Vediamo un po'. State fermi. No, cosa ho preso? Ho preso la lumaca. Micchia. Vabbè, facciamo finta di niente e voi non avete visto nulla. Ma no, ma povera lumachina, ma perché la dovete uccidere? Ecco, bravo. Giustamente lui dice, visto che ero un picoglione, allora vengo a uccidere te. Sei di livello 16 pure tu. Ecche due palle. Tu con questa colorazione orrenda sei di livello 4. E adesso ti uccido come segno di protesta. Oh, mannaggia la miseria. Dai, Arc, un livello un po' più alto. Minchia, c'è la difficoltà di gioco al massimo. Dovrebbero spawnare quelli di livello 1000-1000 e mi fa spawnare i livelli schifo. Nelle altre mappe comunque ho notato che non è così, eh. Tipo Aberration, Ragnarok. Lì se metti la difficoltà al massimo ti spawnano anche i leggendari uno dietro o l'altro così proprio. Qua sulla mappa principale non si sa perché. Invece, nonostante la difficoltà al massimo, tende a farti spawnare tanti dinosauri di livello schifo e pochi di livello decente. Boh, vabbè. Non ho mai capito qual è il problema di Arc, o meglio dei programmatori di Arc. Te sei di livello schifo pure tu, immagino. Sì, livello 8, infatti. Ecco, finito la stamina. Perfetto. Eh vabbè, tanto t'ammazzo, sei di livello schifo. Anche a te non c'è proprio un cacchio di niente di meglio da fare che cercare di ciularmi la roba a me, eh. Eh, oh! Salve. Ok, no, no, piano, piano, non venire qua perché t'ammazzo la famiglia. Stai calmo. Che livelli siete? Fatemi vedere. Livello non l'ho visto mai nella vita perché è sparito sotto la faccia dell'argentalis. Lo sapevo io, lo sapevo. Lo sapevo. Appena ho messo il culo giù dall'aquila, giustamente, eh, lui è arrivato. Allora, te sei di livello schifo, quindi muori. Ok, vieni qua te. Calmati, placati, vieni qua. Dov'è finito l'altro? Me l'hai già ammazzato? Era anche quello di livello merda? Vieni qua. Livello 28, minchia, ma che livellini di merda. Ah, porco cane, che facciamo? Ci accontentiamo del livello 28, raga? No, no, guarda, per una questione di principio, proprio. Ne voglio uno di livello alto e porco cane. Ok, ok, aspettate che qua ce ne sono un po'. Uh, bello quello nero, quello nero mi piace. Sarà di livello schifo, sicuramente, quindi. Vediamo un po'. Vediamo il livello 60 qua. È di livello 60 qua. Oh, oh, grazie, Ark, grazie, grazie. Orco cane, anche con la mia colorazione preferita. Oh, bello, guarda qua, sembra così un corbaccio. Bello, 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 bello. Ok, spero solo di arrivare a casa in tempo prima che l'aquila mi si spianca dalla fatica. Ok, vieni qua, vieni qua, porco cane, vieni qua. Mannaggia, oh, l'ho preso, ok. Porco cane, mi ero dovuto fermare a far riposare l'aquila. Mi stava, mi stava scappando, si è buttato tipo giù il deficiente. Ma sei cretino. Mamma mia, come la fate sul tragico. Voi animali salvati, cevo pur di non farvi addomesticare. Cos'è? Cos'è? No, veramente, mi è entrata una Ienalfa nel RC. Sì, ma se io ci butto adesso dentro il coso se la pappa... Ma guarda te a saperlo prima. Ma porco cane, aspetta, facciamo così. Vediamo se la attacca, e la attacca sì. Vieni qua, vieni qua, Ienuccia di papà, vieni qua. Livello 76, sti cavoli. Eh, ciccia, eh, se mi mandavi un messaggino mi dicevi... Senti, mi sono auto ingabbiata, non si sa in base a quale bug strano. No, ma porco cane, a saperlo che c'avevo la cosa, l'aliena incastrata nella gabbia. Come cazzo ha fatto ad entrare quelle porte? Erano chiuse. Perché loro dalle porte mi sembra che possono entrare perché sono piccole. Caracco cane, però erano chiuse, era stato un bug, non lo so, mi ho spavonato qua dentro così a caso. Cosa stai facendo te? Non devi attaccare nessuno, acuccia. Ah, stai qui, fammi fare il mio lavoro. Ok, ci riprovo, ma... Stavo dicendo... Ma salve, e l'ho mancato tantissimo. A parte che sta già tentando la fuga, quindi mi sa che si sta già per... Addormentare! Oh, l'ho preso. Ah, l'è addormentato, perfetto, molto bene, molto bene. Ok, prendi qua, ricarica un secondo, metti via che non si sa mai che a parte una fucilata. Ok, a quanto pare adesso sto stronzone gli dovrò stare attaccato al culo perché si sveglia alla velocità della luce. Ma se io vado a prendere la carne di Montone, in teoria dovrebbe fare presto. Ok, eh sì, si sveglia in fretta. Vedi di mangiare. Ok, mangia, mangia, per favore, mangia, mangia la carne, ti prego. Oh, bene, bene, sì, si domestica in fretta con la carne, buono, buono, con la carne di Montone. Ammazza, 26% mi hai già fatto. Stickizer. Efficacia del mizzeca, praticamente il 100%, 31 livelli. Ah, vai matto per la carne di Montone, quindi, eh, guarda, questa te la lascia a te, così, tanto per... Ok, il torpore sta rimanendo al massimo. Ok, adesso sta scendendo, ora che l'ho fatto notare. Te ne do ancora un po' così. Ok, buono, buono. Ok, ti butto giusto un po' di carne normale, così almeno quando hai finito non rimani senza. Intanto dammi sta roba che ve la vado a posare. Ecco qua, dammi anche il veleno qua di Titanoboli, che cos'è. Ok, perfetto. Te, ciapa chi? Olè. Vabbè, vado a posare questa roba, tanto che ti addomestichi, ti do ancora una narcotizzatina, per sicurezza. Ecco qua. Ok, e piove. Ah, giornata di merda. Ok, venga qua lei, che prendo... Ah, ho sbagliato, pur santemi, perdone, sì, poi tagliamo anche i capelli, tanto è umilio. Ok, e per una volta non si sono piazzate davanti alla porta mentre cercavo di passare. Ok, sposta qua. Metti via le forbicine che non erano qua, ma erano tipo qua. Accendo la torcia così sono sicuro che anche voi vedete qualcosa, perché oramai si è fatto buio. E c'è pure la nebbia. Ok, non mi dire che si è svegliato. No, ciccio, cosa stai facendo? Scendito, ho detto, madò. Ok, no, però si sta svegliando, ma è quasi pronto. Cioè, è quasi domesticato, è quasi pronto. Quasi domesticato. Carne di montone ne è ancora quindi a posto. Anzi, facciamo così. Ecco. Così non spreco la torcia. Ok, ce l'abbiamo fatta, yeee. Ok, anche qua il nome lo scegliete voi. Lui è maschio, sì, è maschio. Ok, allora, mi stai seguendo, giusto? Sì, ok, allora vieni, allontanati da lì. Ecco, ora stai fermo lì. Ok, poi fuori registrazione ti vado a fare la sella e così. Che faccia da scemo che c'hai? Però sei brutto però, sei veramente brutto. Sei la versione malvagia del dodo, praticamente. Ma fai impressione, quanto sei grande esattamente? Ammazza. In prima persona sembra molto più piccolo. Vabbè, ok, raga, io chiudo qua l'episodio perché non ce la faccio veramente più. L'addomesticamento lì alla palude mi ha letteralmente fatto cascare le noci per terra. Voi sapete cosa fare? Mi raccomando, iscrivetevi al canale, passate dalla pagina di Facebook, lasciate mi piace, condividete i video, soprattutto. Ci vediamo nel prossimo episodio, raga. Ciao. Ciao.